A voi LTG Express, nuvuras dell'Europa per la continuità territoriale, l'assessore all'industria incontra gli stagionisti della miniera dell'Umero, su tanti creativi dell'UNESCO, l'Alghe Gliess. Gli Ussoli, sciopero di Raffan Tambè per Mario Bruno, per Maurizio Gobino un nuovo riconoscimento. Sigla! Emanuele Farinelli, Santa Maria La Palma, vendita umido e accessori, Italia, Cuba, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Honduras. Dubbi per la continuità territoriale per l'Alghe e Olbia. La Commissione Europea dice che le spese sono massi alti, ammettere la proroga per cagliare. La stessa cosa lavorano l'Alghe e Olbia. All'Alghe, l'assessore regionale all'industria, Maria Grazia Piras, ha incontrato i rappresentanti sindacali e i lavoratori della miniera dell'Umero. Piras è disponibile a verificare, insieme con l'assessore del trabalho, un possibile supporto al reddito o utilizzo temporanei dei lavoratori, conforme la lei. L'Alghe, la città creativa UNESCO, presentare a voi, Maiti, lo fascicolo di candidatura. Ascoltaremo, Mario Bruno. Città della creatività UNESCO, Alghero C. Una grande opportunità, dopo la Capitale Italiana della Cultura, l'essere arrivata in finale tra le prime città italiane, subito dopo questa opportunità. Sulla base del dossier Capitale della Cultura abbiamo inserito al centro, al cuore del progetto, la Riviera dei Corali, quindi il Corallo di Alghero, anche la nostra candidatura alle città creativa UNESCO, che è un riconoscimento che viene dato solo a pochissime città. Dal 2004 ad oggi sono 154 nel mondo, solo 5 italiane, le più importanti. Siamo in finale con altre cinque città e pensiamo di poter rappresentare già il 3 novembre a Parigi, con uno stand e con iniziative dedicate alle sei finaliste italiane, poter rappresentare al meglio la nostra città. Ma poi anche ad Alghero, a partire da questa settimana, per tutto il mese di ottobre e novembre, il tema centrale degli allestimenti delle vetrine, della lavorazione, che comunque sarà mostrata a tutti, del Corallo, sarà appunto l'elemento che unificherà la città in un altro esperimento importante di coesione sociale. La sedesione a noi non è mai massata alti per l'approvazione della legge di Ussoli ha superato la cifra di 1.300. A lì hanno partecipato al Dagiù a 167, entro i europarlamentali, i deputati, anche i sindici dell'Alghè, Mario Bruno, e il musicista Paolo Fresu, membro del Comitato Scientifiche della Fondazione Meta. Nel Cravi Maga, difesa personale israeliana, l'istruttore del terzo livello, Maurizio Gobino, è stato insegnato dei Grand Master, l'Umes Alf. A lui, gli altri due Master, la Federazione Luca Cravi ha dato l'ancaric per firmare alla Commissione Nazionale, per preparare i programmi d'esame e esaminare i futuri istruttori a livello nazionale. La mozzarella di bufala, se è nobile, è meglio. Farinelli Fresco Market Ora, una indivinaglia, la curiosità. Pintor lo so, ne manco macchina fotografica. Però, le persone non ritraisce tantas, senza sfolli, né curulli. A sticca il bann, all'almari e al comò. Chi mai so? Un, due o tre, l'umiral. Ora, le previsioni del TENS, per ora, siamo svegliati. Di Algero Channel È arrivata l'app di Algero Channel, la web social tv. Puoi vedere l'Algero TG Express in diretta, gli approfondimenti e tutte le passate edizioni del TG. Accedi a tutte le puntate del fortunato format Audaci e a cuore aperto. Un'applicazione interattiva che ti consente di inviare video, foto e messaggi. Scaricala da Google Play o accedi direttamente dal web www.appalgerochannel.it Algero Channel, web social tv. Come un'applicazione interattiva che ti consenta di avalia, e con un'applicazione situale che ci trovi. Per ora, mi spacerà da dip적 IV C. Spire. Libro Channel, web social tv. ecta di AB party. Modati ogni. TSE di Shah... Simei pro' othera.